Ho sempre creduto a questa sentenza perché credo un po' nella giustizia e quindi non avendo mai fatto nulla di quello del quale mi si accusa, credevo che la sentenza fosse questa. Poi anche questo fatto di essere io il tramite fra lo svizzero che aveva affittato un appartamento a Villa La Sfacciata e il Pacciani che mi consegnava i reperti, anche questo è completamente falso. Nell'82 non c'è stato escissione per cui non esiste reperto, nell'83 sono stati ammazzati due uomini quindi non c'è reperto da consegnare. Nell'83 questo svizzero scappa a cambele vase perché è indebitato per 40 milioni con il signor Martelli, la famiglia Martelli, proprietaria della Sfacciata. Per cui 83, 84, 85 a chi gli do questi reperti? Lei conosceva Pacciani, Vanni e tutti i vari compagni di Merende? Dunque io conoscevo Vanni perché era al postino, veniva in farmacia, Pacciani non l'ho mai visto di persona, Lotti lo vedevo passare però sapevo che l'era il grullo del paese. Secondo lei Pacciani e Vanni e anche Lotti erano colpevoli? Non lo so.